chilometri di corde si mettono in movimento ogni volta che bisogna alzare le vede stanno andando avanti così da circa dieci minuti ci deve essere una festa o una benedizione qualche cosa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti un passaggio che state vedendo adesso è del gruppo di Oristano anche questo un 3 su 3 con centrale girato che si ci metteranno su un 3 su 3 più la piramide eccola qua un bel applauso di Oristano veramente un bel applauso hanno fatto un doppio vuoi partire la paniglia di Dorgali sono dei cavalli anche loro con una piramide intraverso